C'è anche il 49enne tecnico romano Luigi Di Biagio fra i papabili e la panchina del Pescara. L'ex tecnico dell'Under 21 lo scorso anno alla guida della SPAL nella massima serie e nella parte finale della stagione si è infatti incontrato oggi con il presidente del Stodalizio Biancazzurro Daniele Sebastiani. Top secret i contenuti dell'incontro ma la candidatura del trainer laziale prende forza in queste ore e a pochi giorni dall'inizio del ritiro precampionato che il Pescara effettuerà in sede. Le prossime ore saranno decisive per capire chi guiderà il Delfino nel prossimo torneo. Restano ovviamente in ballo al momento anche le candidature di Andrea Sottil sulla panchina Biancazzurra nell'ultimo mese e mezzo di Massimo Oddo che tre giorni fa aveva rescisso consensualmente il contratto con il Perugia. Potrebbe dunque uscire da questo trist di nomi quello giusto con la novità di Biagio che stimato dai dirigenti Biancazzurri era già stato nella passata stagione accostato a più riprese alla Pescara dopo le dimissioni di Luciano Zauri e prima dell'arrivo sulla panchina abruzzese di Nicola Le Grottaglie.